E' una domanda ricorrente, la nostra battaglia sarà sempre in Forza Italia, la faremo con convinzione e con forza, se non dovessero esserci le condizioni a livello nazionale per poter avere un'apertura che metta in campo un meccanismo democratico avremo la necessità di scendere sui territori e quindi inizieremo un giro per il Paese perché siamo convinti che in questo giro per il Paese troveremo tantissima gente che è stanca rispetto a quello che sta accadendo.